Siamo alla questione 42 e prendiamo in esame la sedizione, che non è né la rissa né la guerra, ma che penso che sia abbastanza naturale capire che non è certamente in sintonia con la carità. Apro una parentesi, anche perché più di uno degli amici che mi sta seguendo mi ha posto questa domanda. No, io non ho tradotto la Suma Teologica, ma pensate un po' se mi dovevo mettere anche a tradurre la Suma Teologica. Questa è una traduzione di padre Tito Centi, è un domenicano che ha vissuto fino a 2011, mi pare, ultra novantenne, e ha dedicato tutta la vita in questo lavoro encomiabile. E se voi andate a cercare la traduzione in linea, ci sono diverse traduzioni che troviamo su internet. Perciò, vi confesso un'altra cosa, mi sarebbe piaciuto portare avanti il commento sul testo latino, perché sinceramente non è un testo difficilissimo, molto più difficile se ci mettiamo a tradurre Tito Livio, Otacito, Cicerone. Però sono argomenti complessi, sono argomenti che non si affrontano tutti i giorni, quindi se alla difficoltà già filosofica e teologica avessimo aggiunto anche la lingua latina, siete già i pochi che mi seguite, veramente non ci sarebbe più stato nessuno. Ma non avrei voluto presentare il testo latino così per un senso di vanagloria o di strane combinazioni, ma perché io continuo ad incontrare gente, non so se sia veramente preparata o parli così per sentito dire, che mi continuo a chiedere, ma lei interpreta o traduce? Traduce o interpreta? Vi permetto di fare questa digressione oggi, abbiamo soltanto una questione con due articoli, vedremo che li affronteremo molto velocemente. La traduzione non si limita alla traduzione, nella traduzione specialmente di testi dove abbiamo una speculazione filosofica o teologica, è necessaria anche un'interpretazione, è necessaria una ricerca lessicale che sia adeguata e che non travisi il pensiero dell'autore. Quindi non è che per questa strada chi vuole commentare un passo di Kant o un passo di Hegel o un passo, che ne so, di Descartes, deve necessariamente conoscere il francese o il tedesco. Io in questo caso conosco il latino e l'avrei potuto fare, certamente, però ci si appoggia anche su gente preparata. Quindi chi pensa di aver tradotto, aver scoperto chissà che cosa sui testi biblici, o dall'ebraico, o dal greco, o dal latino, vi sta ingannando, perché le traduzioni arrivano da molto lontano e le conosciamo queste traduzioni, non abbiamo bisogno di chi fa le scoperte dell'ultima ora. Però, quando si cerca di affrontare un argomento così complesso, non ci si può perdere anche nella traduzione. Quindi io mi sono appoggiato alla traduzione di questo padre, che io conosco, come vi ho già detto, da lontano, nel 1973, quando acquistai l'opera sua completa, con tutte le notte e le introduzioni, edita dalla Sarani. Perciò, detto questo, qualche volta, quando non sono molto convinto delle traduzioni, vado a cercare sul testo latino. Ma, è capitato forse, fino ad ora, ci stiamo avvicinando al 50% del materiale analizzato, sarà capitato 3-4 volte. Le traduzioni sono perfettamente in sintonia col pensiero di Tommaso d'Aquino. D'altra parte, un sacerdote dominicano, che ha passato tutta la vita in questo lavoro, è incommiabile, non penso proprio che possa andare incontro a degli errori particolari. Perciò, dobbiamo oggi valutare il significato di sedizione. sembra che la sediazione non sia un peccato speciale distinto dagli altri Paolo 2 Corinti 12-20 distingue la sediazione dagli altri peccati e quindi è un peccato particolare che è distinto dagli altri adesso vediamo un momentino come lo distinguiamo la sediazione è un peccato a fine alla guerra, alla ressa perché purtroppo si arriva sempre alle mani, si arriva sempre alla violenza in quanto implica un contrasto, ma non un contrasto puramente verbale ma se ne differenzia per due motivi primo, perché la guerra e la ressa dicono, fanno riferimento alla lotta reciproca attuale che si sta in qualche modo consumando sul momento mentre si può parlare di sedizione sia che si tratti di lotta attuale sia che si tratti di una preparazione a tale lotta abbiamo studiato, penso che conosciate questi eventi le sedizioni organizzate dalla carboneria le sedizioni organizzate dalla giovane Italia ma poi tutti i movimenti che ricordiamo i più importanti quelli che prepararono la rivoluzione francese, la rivoluzione americana la rivoluzione russa, la rivoluzione cinese sono evidentemente sedizioni io sono un po' dubbioso sul fatto che la sedizione possa cambiare qualche cosa oggi di sedizioni ne troviamo ancora quando sfilano magari per le strade certi gruppi politici e senza magari neanche permesso e distruggono, spaccano e lasciano quartieri, strade completamente sfasciate perciò la sedizione c'è, ci sono le piccole sedizioni che sono ben localizzate e ci sono quelle sedizioni che hanno fatto storia se però voi analizzate attentamente almeno questa per me è una convinzione di carattere storico determinata dai fatti per me le sedizioni che poi si trasformano in vere e proprie rivoluzioni hanno risolto ben poco spesso le cose ritornano come prima se non peggio di prima la sedizione è un atto violento non c'è dubbio ma vedremo in seguito che può essere solo giustificato nel momento in cui c'è un tiranno c'è una dittatura che si è imposta esclusivamente per gli interessi di qualcuno di un gruppo molto molto ristretto perciò abbiamo detto la prima differenza tra rissa guerra da una parte sedizioni dall'altra è questa che la rissa e la guerra sono violenti sul momento sono attuali la sedizione invece oltre a poter essere violenta nel momento in cui si parla di sedizione la sedizione potrebbe anche essere in potenza preparata quindi qui dice le sedizioni sono tumulti che preparano al combattimento non solum sedetiam le sedizioni sono tumulti sono combattimenti sono faccia a faccia di gruppi sociali che si fronteggiano all'interno di uno stato ma sono anche dei preparativi per eventuali movimenti che poi possono addirittura diventare rivoluzionari secondo perché mentre la guerra è propriamente contro i nemici e gli stranieri e si svolge tra popolo e popolo e mentre la rissa è una lotta tra due individui o al massimo vengono coinvolte poche persone la sedizione propriamente è tra le parti di scordi di un unico popolo vi ricordate la rivoluzione francese il terzo stato contro i primi due stati la nobiltà e il clero vi ricordate la rivoluzione russa i bolshevichi che rappresentano un gruppo sociale oltretutto abbastanza ristretto e che riescono a prendere il potere siamo però all'interno di un unico popolo la sedizione quindi avendo per uso contrario un bene specifico cioè l'unità e la pace di una collettività è un peccato specificamente distinto è peccato la sedizione e vedremo al limite quando potrebbe essere giustificata ma è contrario al bene specifico dell'unità noi abbiamo visto che già Gesù si raccomanda ai suoi discepoli siate un corpo solo e un anima solo ma questa unità di intento di azione di opera dovrebbe essere presente in ogni espressione sociale nella famiglia no? un insieme di famiglie nella comunità cristiana in una nazione ecco perché l'unione fa la forza e poi questo è un un proverbio umano ma poi perché l'unione nella prospettiva del cristiano è un invito che l'unipotente attraverso Cristo fa gli uomini e è proprio la carità che è il termine collante l'attac che tiene tutto unito là dove c'è la divisione e c'è questa forza centrifuga evidentemente si perde tempo si perde denaro ci si accoppa ci si accapiglia e poi alla fine troviamo solamente i cocci i morti i feriti ed è una vera e propria catombe ecco perché io continuo a insistere scusatemi se mi prolungo ma possiamo farlo in questa questione ci sono solo due articoli ecco perché io continuo a insistere e a sostenere quando qualcuno mi dice ah ma la fede è qualcosa di irrazionale irrazionale è la storia degli uomini che dovrebbe averci insegnato a vivere anche da un punto di vista umano nella concordia e nella collaborazione invece troveremo sempre lungo la storia chi sfrutta l'uno chi sfrutta l'altro violenze di ogni genere perciò la sedizione non è qualcosa di positivo scrive Sant'Isidoro che è sedizioso che produce dissensione negli animi e genera discordie quindi la sedizione non è un peccato speciale distinto dalla discordia la risposta di Tommaso è il sedizioso che promuove una discordia non qualsiasi ma tra le parti di una collettività è chiaro che la discordia può essere provocata anche all'interno di una famiglia la discordia può essere provocata dentro a una fabbrica dentro a una classe dentro a un reparto medico in un ospedale la sedizione però è qualcosa di più è prendere una classe se vogliamo chiamarla classe all'interno di una società di una nazione e porla contro un'altra classe oppure contro l'autorità stessa di coloro che detengono il governo in una particolare nazione quindi tra le parti di una collettività vediamo l'altra osservazione la sedizione implica una divisione ma anche il termine scisma deriva da scissura determina una divisione sì ma lo scisma fa riferimento a un'unità spirituale fa riferimento alla chiesa mentre la sedizione fa riferimento ad una unità temporale o civile e poi lo scisma non implica un combattimento necessario poi purtroppo abbiamo visto nella storia che gli scismi e le eresie sono arrivati anche a questo ma le ragioni sono altre quando si introducono delle motivazioni di carattere politico economico comunque lo scisma di per sé non arriva ad un combattimento reale mentre la sedizione si si arriva proprio ad un confronto armato passiamo quindi all'articolo 2 e ciò che ci propone l'articolo 2 indubbiamente ha qualcosa di difficile da intendere se non si pongono come premesse due cose la prima è che ci troviamo al tempo di Tommaso in un ordine politico completamente differente da quello di oggi e se mi permettete non mi sento di dire che quello di oggi sia migliore di quello di allora neppure quello di allora che possa essere considerato migliore di quello di oggi sono modi istituzionalmente differenti di governare e purtroppo la storia ci insegna le deficienze di quel sistema un po' meno le deficienze del nostro perché ci siamo dentro e quindi chi ha in mano questo potere cerca di difendere e di giustificare in tutti i modi sto parlando evidentemente di un'aristocrazia allora così definita o una oligarchia comunale e oggi parliamo della democrazia è evidente che bisognerebbe necessariamente fare delle premesse storiche l'aristocrazia sappiamo come si è evoluta e come è cambiata in peggio eppure aristocrazia vuol dire governo dei migliori coloro che sono veramente preparati quindi il principio in sé è intrinsecamente buono purtroppo tutte le cose che sono intrinsecamente buone e che si presentano in questo mondo in modo ordinato e razionale alla fine degenerano così pure la democrazia io come ho già confidato a qualcuno non ho più continuato sulle mie riflessioni storiche perché essendo un po' fuori dalle righe generano facilmente delle polemiche io sapete bene che non amo le polemiche la discordia non mi piace vedete che Tommaso la condanna anche perché oggi non ci si riesce a confrontare serenamente però se io leggo la costituzione italiana che fu prodotta dai padri costituenti dopo la seconda guerra mondiale non posso far che constatare un equilibrio un amore per la libertà per la giustizia per la democrazia come si potrebbe mai contestare quella costituzione forse qualche cosa potrebbe essere cambiato comunque è intrinsecamente buona poi si vede la degenerazione che ha incominciato a registrare la nostra repubblica ma se andiamo a vedere altre nazioni come gli Stati Uniti d'America c'è di peggio ecco dalla libertà dalla democrazia dal governo del popolo siamo arrivati a delle situazioni limite che non hanno nulla a che vedere più con quella costituzione iniziale quindi cosa intendo dire con questo che innanzitutto abbiamo due realtà istituzionali differenti al tempo di Tommaso e al nostro tempo e poi qui abbiamo un dottor Angelicus Tommaso probabilmente giudicava gli altri partendo da se stesso un cuore puro sincero tutto proteso a Dio tutto proteso alla carità tutto proteso al servizio fino a rinunciare a tutti i suoi beni entrare in ordine mendicante c'è un proverbio che dice chi ha difetto ha sospetto Tommaso di difetti probabilmente ne aveva molti pochi d'altra parte molto pochi d'altra parte è stato dichiarato santo dottore della chiesa e forse pensa che anche gli altri si dovrebbero comportare o si comportano su questa linea quindi noi leggendo queste argomentazioni le risposte vediamo di metterci in sintonia col santo io ho sempre chiamato Tommaso non difficilmente lo chiamo Santommaso ma adesso veramente voglio definirlo santo quel santo che giudica un mondo e spera che questo mondo probabilmente o è convinto che sia anche lui nella buona o discreta santità e leggendo queste sue riflessioni sembra di avere a che fare con un sognatore io penso che non sia così è il tessuto di quest'uomo che è impastato di carità e quindi non riesce a cogliere le ragioni intrinseche originarie che purtroppo corrompono il tessuto di una determinata società qualsiasi possa essere la forma istituzionale allora se noi ci mettiamo in questa prospettiva riusciamo anche a capire perché per Tommaso la sedizione è sempre peccato mortale e d'altra parte l'Apostolo in 2 Corinti 12-20 fra le altre opere che sono peccati mortali proibisce la sedizione e allora qualsiasi sedizione deve essere condannata come al solito Tommaso riesce in qualche modo a uscirne fuori in che modo questo sì la sedizione qualche volta è giustificata però a questo punto non la dobbiamo più chiamare sedizione perché il vero sedizioso è il tiranno chi cerca di riportare la giustizia e il bene dei cittadini in un contesto sociale depravato non è sedizioso quindi Paolo proibisce le sedizioni chi fa sedizioni commette peccato grave ma di fronte a certe situazioni limite la sedizione è giustificata ma non la chiamiamo più sedizione sembra utilizzando dei termini che si usano ancora oggi un escabotage un modo di dicevamo noi in termini semplicemente italiani arrampicarci su periveti ma non penso che sia così apparentemente potrebbe in generale questo sospetto allora Tommaso cosa dice facendo riferimento ad Agostino i sapienti considerano popolo attenzione non tutto l'insieme di una collettività come facciamo noi oggi ma il gruppo organizzato che nasce dal consenso ad un'unica legge e ha una comune utilità non c'è ancora l'idea di tutto un popolo che democraticamente partecipa alla vita di una nazione c'è un gruppo ristretto i sapienti da Platone al suo discepolo Aristotele pensano che ci debba essere pensate Platone i filosofi ma noi i filosofi lo Stato aveva cercato anche di realizzarlo nella sua pratica ma un conto è costruire un'utopia un conto è fare i conti con gli uomini con le loro pulsioni disordinate determinate appunto come abbiamo visto nella prima parte da un peccato di origine chi continua a sostenere che gli uomini e naturalmente le donne sono buoni non sono corrotti è corrotto chi la pensa in questo modo eccetera eccetera è un sognatore un falso sognatore purtroppo l'essere umano è corrotto e la storia ce ne da la conferma perciò a quel tempo c'era un ristretto numero di persone poi si passerà al comune no? particolarmente nelle città ci subentra un numero più cospicuo di cittadini che partecipano al governo però è sempre un numero ristretto non come nella democratica abbiamo fatto in linea una riflessione sulla democrazia atenese quella che viene definita democratica atene ma uno per un motivo l'altro uno perché non era cittadino di atene l'altro perché era straniero l'altro perché era schiavo l'altro perché era donna in realtà chi partecipava alla vita di atene era un numero abbastanza ristretto di persone perciò dice tommaso c'è un gruppo ristretto di persone più o meno ristretto che si mettono d'accordo per pensare all'utilità comune di una nazione purtroppo cosa capita molto spesso che questo gruppo aristocratico oligarchico timocratico o che faceva riferimento alle arti maggiori e minori in ogni modo questo gruppo molto spesso non pensa alla vera utilità di tutti ma alla propria utilità e qui abbiamo quindi perciò degli scompensi dà per scontato Tommaso la maniera di Agostino che questa compagine dello Stato fatta di cittadini agisca veramente per il bene di tutti e quindi è evidente che l'unione contrastante con la sedizione è l'unione nella legge e nella comune utilità allora è evidente che impostando le cose in questo modo chi fa sedizione e va contro questo gruppo organizzato che sia organizzato per dare l'unità al popolo dare una legge dare un ordine dare delle garanzie per l'utilità comune si trova del male ma addirittura di un male peccaminoso perché arriva con la violenza a volerlo scalzare volerlo funditus dalle fondamenta sconvolgerlo per cui risulta chiaro che la sedizione si contrapone alla giustizia e al bene comune attenzione è Tommaso da per scontato che quel gruppo organizzato giustifichi e garantisca la giustizia e il bene comune essa quindi al suo genere è un peccato mortale il peccato di sedizione va attribuito principalmente a coloro che promuovono la sommossa in secondo luogo va poi attribuito a quelli che li seguono coloro che invece fanno loro resistenza quindi la forza pubblica i soldati militari che cercano di bloccare la sedizione per difendere il bene comune non devono essere chiamati sediziosi vediamo ora le argomentazioni che vorrebbero sostenere che la sedizione non sempre si può definire il peccato mortale la sedizione come dice la grossa implica un tumulto che prepara al combattimento ma combattere non sempre è peccato mortale anzi talora è giusto e lecito l'abbiamo visto nella guerra là dove ci si difende là dove il papa invita a prepararsi per non soccombere agli attacchi banditeschi dei saraceni ma qui fa notare Tommaso stiamo combattendo proprio contro quelle leggi che sono state varate ed emesse per il bene comune il combattimento è recito quando affrontato per il bene comune invece la sedizione è contro il bene del popolo 2 la sedizione è una certa discordia ma la discordia può essere senza peccato mortale persino senza alcun peccato quando noi discordiamo abbiamo visto e questo discordare serve per comunicare vari pareri per affrontare una decisione un argomento su cui non siamo d'accordo e che ci vede più che litigare ci vede nella discordia per trovare una soluzione onesta e bene non ce n'è anche peccato quindi la stessa cosa dovrebbe essere per la sedizione la discordia su cose che non sono buone in modo evidente quindi difficilmente io e tu possiamo evidentemente capire ripeto questo evidentemente con evidenza capire che ha ragione torto perché il bene non si evince non emerge così con semplicità allora la discordia non è peccato ma non è così per la sedizione che perché stiamo dando per scontato che la sedizione sempre si pronuncia e agisce contro quelle leggi che sono state emesse per il bene dello Stato e dei singoli membri ultimo vengono lodati coloro che liberano il popolo da un potere tirannico ma ciò non può essere fatto facilmente senza una divisione del popolo perciò la sedizione può essere fatta senza peccato si dice Tommaso ma quella non possiamo chiamarla sedizione il regime tirannico che abbiamo una citazione da Aristotele non è giusto poiché non è ordinato al bene comune il regime tirannico ma al bene personale di chi governa come spiega Aristotele perciò scuotere tale regime non ha natura di sedizione a meno che non si turbi talmente tale regime da procurare al popolo un danno maggiore di quello sofferto per il regime tirannico e invece piuttosto il tiranno che è sedizioso perché perché non pensa al bene comune pensa soltanto bene se stesso è chiaro che nella tirannide vengono coinvolti anche altri regimi che non sono rappresentati da una sola persona ma possono essere rappresentati da un gruppo dirigente provocando nel popolo sottoposto discordi e sedizioni per dominare con più sicurezza quindi concludiamo è possibile contestare anche violentemente il potere stabilito però solo quando è tirannico e allora però non possiamo più parlare di sedizione ma è sedizioso l'azione il potere il governo che agisce contro il bene comune l'azione l'azione l'azione